Mi è piaciuto tutto, mi sono piaciute le persone, mi è piaciuto la tipologia del corso, il lavoro che abbiamo fatto, molto istruttivo e mi è piaciuta molto Patrizia nei suoi interventi e nell'aiuto che ha dato per capire determinati problemi delle persone, di tutti noi. Lo consiglierei perché la trovo una crescita personale, una risoluzione di tutte quelle problematiche che ci poniamo ogni giorno e che alla fine sono un po' inutili per andare avanti nella nostra crescita. Sono riuscita, non so come, ma io sono già venuta qui senza sapere di quello che si parlava con la voglia di sbloccare determinati miei blocchi. Devo dire che sono riuscita a fare un bel lavoro e in questo appunto vedere più chiaro la mia persona. Ciao Patrizia, grazie di tutto, sei fantastica!